Caro prospect, che sia chiaro, non sono qui per venderle qualcosa. Questa affermazione è sbagliata, perché? Perché sei un venditore, o comunque sei un closer, sei una persona che deve vivere, deve vendere, e deve vendere per vivere, ok? Quindi, se non vendi, se non chiudi, se non vendi i tuoi progetti, le tue idee, i tuoi prodotti, i tuoi servizi, beh, è chiaro che non puoi rendere sostenibile la tua attività commerciale, la tua attività professionale, la tua azienda.